Oggi leggiamo un Vangelo veramente bellissimo, la trasfigurazione di Gesù, ma lo leggiamo in questi giorni, in queste settimane drammatiche e allora non voglio fare poesia, voglio però fare Vangelo. E allora insieme con le frasi bellissime, la veste che divenne candida e sfolgorante, gli uomini che parlavano con Gesù e Pietro e gli altri discepoli che dicono è bello per noi stare qui, facciamo tre tende, c'è anche un altro aspetto che è quello che si lega addirittura alla passione di Gesù. Difatti si dice che Mosè ed Elia parlavano con lui dell'esodo che stava per compiersi, cioè parlavano della morte di Gesù, altro che vesti sfolgoranti. E mentre loro parlano cosa fanno i discepoli? Erano oppressi dal sonno, come quando io faccio le prediche. Per fortuna poi si svegliarono e videro la gloria di Gesù e a quel punto vivono l'esperienza bella e come si conclude? Gesù rimase solo. Come vedete anche in questa pagina c'è tutta la bellezza del tabor, la luminosità, ma c'è tutta la sofferenza della passione. Conclusione, è esattamente quello che vale per la vita di ciascuno di noi. Coniughiamo sempre passione e tabor. Che il tabor ci rimandi alla passione, che la passione non ci faccia mai dimenticare la luce del tabor. Buona settimana a tutti.